In questo momento ci sono delle priorità urgenti. Innanzitutto le persone che hanno pagato più di altre la crisi. Penso ai cassi integrati, penso ai precari della pubblica amministrazione, penso agli esodati. Non crediamo che togliere l'IMU per tutti, anche per chi se la può permettere, per gli straricchi, può essere uno strumento di equità. Noi vogliamo che non la paghino le fasce più deboli e che chi se lo può permettere invece la paghi.